Il 26 marzo scorso a Canicattì, incontrata a Graziano Di Giovanni, personale del locale commissariato di polizia, irrompeva in un appezzamento di terreno durante una lotta clandestina tra cani, cogliendo nel fatto ben 25 persone attorno ad un recinto dove aveva luogo il combattimento. I 25 soggetti venivano così segnalati all'autorità giudiziaria per divieto di combattimenti tra animali, aggravato dalla presenza di minorenni. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha quindi applicato la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio per 18 soggetti residenti nell'Interland di Palermo, Gela, Foggia, Barlette e Catania, rinviando gli stessi nel luogo di residenza ed obbligandoli a non fare più ritorno nel comune di Canicattì.